Il comandante da conto barese di nascita nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali da ultimo quello di comandante in seconda della direzione marittima della Puglia e della Basilica Taionica. Tra gli incarichi di prestigio svolti quello di comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto tra il 2003 e 2005, comandante del compartimento marittimo di Gallipoli tra il 2014 e il 2016 ed ufficiale superiore addetto al ministro delle infrastrutture e trasporti e capo della segreteria operativa dell'unità di analisi dell'andamento del trasporto, struttura posta alle dirette dipendenze del ministero. Da conto è commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana ed è insignito della Croce d'Oro per anzianità di servizio militare, la Croce commemorativa per le operazioni di soccorso umanitario internazionale svolte in Albania e la medaglia di benemerenza per l'emergenza sisma Umbria Marche 1997. Le sue prime ore a Salerno dedicate agli incontri istituzionali con prefetto, sindaco e vescovo, una realtà che deve ancora conoscere, più di 200 chilometri di coste, un ambiente marino da tutelare e decine di porti. Comandante visivamente, due navi da crociera, tanti attracchi commerciali, la ricchezza di questo porto ma anche le difficoltà di gestire un traffico così importante. Assolutamente sì, però devo dire che insomma per chi fa il mio mestiere comandare un porto che ha questa dinamicità e questo traffico sia commerciale insensurato sia passeggeri che merci non può che soddisfarmi. Poi per quelle che possono essere le critici dalle cose siamo qui per cercare di risolverle.